Lavori in corso alla nascita della nuova circonvallazione di Muraglia, il cui cantiere rientra tra le opere compensative alla realizzazione della terza corsia di società autostrade. Il sitaco di Pesaro Matteo Ricci ha convocato oggi una conferenza stampa per aggiornare l'andamento di un maxi cantiere sulla futura strada Enrico Berlinguer. Una nuova arteria che per godere di un'accelerata di lavori chiede ora un grosso stravolgimento alla viabilità pesarese, quello della chiusura al traffico di strada Carloni per i prossimi quattro mesi a partire dal 14 ottobre. Finalmente l'interquartiere di Muraglia stanno andando avanti in maniera spedita, i lavori sono avviati da tempo, però la ditta ci ha chiesto per accelerare di chiudere la strada per quattro mesi. Ci abbiamo riflettuto, poi abbiamo dato l'ok perché questo consentirà la ditta di finire i lavori della strada entro l'estate, questo ci è stato detto e quindi un'opera fondamentale per completare a sud gli interquartieri e insomma per quattro mesi chiuderemo la strada. Il che vuol dire che coloro che oggi sono abituati a passare dentro Muraglia per andare all'interquartiere dovranno fare strade alternative, sicuramente l'autostrada, sicuramente la statale e sicuramente l'asse via Flaminia e via Fratti sulla quale avremo oggettivamente dei disagi per alcuni mesi di maggiore traffico. Quindi chiedo pazienza ai cittadini, chiedo di seguire le indicazioni, tutto ciò verrà da venerdì prossimo, quindi l'abbiamo detto con un largo anticipo, però questo consentirà a società autostrade di terminare l'interquartiere il prima possibile e oggi abbiamo confermato il fatto che la strada si chiamerà strada Enrico Berlinguerra. Presente in comune anche Claudio Cerbarano, project manager di Autostrade per l'Italia, che ha ricordato come la bretella costituirà un nuovo collegamento tra strada Pantano-Castagni e via Lombroso, liberando dal traffico via Flaminia. Con la realizzazione di questa viabilità si chiude dunque il semianello periurbano composto per buona parte dalla strada interquartieri. Con la chiusura al traffico divisa in più fasi fino a febbraio, Ricci ha dato suggerimenti di viabilità alternativa. L'autostrada innanzitutto, la statale e poi per chi viene dalla Bettola si dovrà proseguire via Flaminia e via Fratti. Stiamo rivedendo i tempi del semaforo e questo per consentire un deflusso il più rapido possibile. Poi ci sono anche le strade collinari, però in genere non invito ad utilizzare le strade collinari per il collegamento tra Pesorefano perché non mi sembra giusto da molti punti di vista. Quindi le tre strade principali da utilizzare sono quelle, lo diciamo con grande anticipo, ci scusiamo per i disagi, però sono disagi che ci consentiranno di finire il prima possibile il cantiere dell'interquartiere. Lungo questo percorso di deviazione, quello più vicino all'area di intervento dei lavori, c'è naturalmente il semaforo dell'intersezione Flaminia-Fratti-Kennedy. e lì naturalmente noi presidieremo l'incrocio alle ore di punta almeno nei primi giorni per valutare. Abbiamo già deciso di reimpostare le fasi semaforiche in modo da agevolare un minimo i flussi di traffico più importanti. Però ci saremo sia lì che nella rotatoria Fratti-Trometta-Belgioioso per valutare e vedere come intervenire.